Salve a tutti, sono Donato Ammirabile, ho 38 anni, sono sposato e un figlio meraviglioso di 8 anni. Sono un ingegnere di professione nonché un amministratore cosciente. Perché mi candido? Perché ritengo che Fasano, negli ultimi 15 anni, abbia avuto una trasformazione che si ha oggi sotto gli occhi di tutti. Mi candido perché ritengo che le passate amministrazioni abbiano lavorato bene. Mi candido perché da quarantenne credo che si possa pensare a quello che era Fasano 15 anni fa e a quello che rappresenta oggi la nostra città. Mi candido perché amo la mia città e perché voglio continuare a Venera crescere. Grazie a tutti.